Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo fantastico voice over, ormai penso di avere una carriera nella radio e allora, questo è un mix di capi nuovi e vecchi, cioè saldi e nuova collezione e vi chiedo scusa al volo che non escono tanti video magari come prima ma sono in vacanza e quindi sto un po' cercando di godermela di stare lontano dal pc, dal computer, e se vabbè stessa cosa, grande Mila comunque cerco di stare lontana dalla tecnologia e quindi provo insomma a dedicarmi agli affetti comunque cerco appena un momento ovviamente, cerco di pubblicare quanto prima allora qua vedete il pantaloncino beige in lino e nella nuova collezione, quindi le trovate tranquillamente la canotta, vabbè è una classica canotta bianca e invece mi pare anche quella sia nuova collezione, vi trovo il link e invece la camicia l'ho presa in taldo, ma ce ne sono veramente tantissime tra cui tutte quelle dei vostri fidanzati, i mariti, i fratelli, i nonni, i papà eccetera sapete che questo look va molto di moda, la camicia grande, riga, abbondante, con qualcosa di bianco sotto, una canotta bianca, una canotta nera, è uno stile che mi piace molto e per quanto riguarda il pantaloncino invece lo approvo al 100% perché è bello, largo, comodo è molto leggero, quindi ve lo consiglio appunto, mi sembra che il prezzo sia sui 30 euro ora non me lo ricordo, però vi lascio, vi lascio assolutamente tutto nell'info box e quindi niente, consigliatissimi, consigliatissimo il pantaloncino, consigliata la camicia e ovviamente consigliato questo look in generale ok, poi abbiamo questo pantaloncino di jeans bermudina, bermudina, bermudino che ho preso in saldo, l'ho restituito perché non mi piaceva come mi stava ma trovate tantissimi bermuda del genere ovviamente anche nella collezione attuale allora questo lo vedo tornare spesso spesso in tanti colori perché ovviamente sapete che tengo d'occhio quindi se vi può piacere lo trovate tranquillamente secondo me ovviamente non in tutte le taglie però provate sempre a tenere d'occhio tra l'altro adesso su Zara si fanno degli affari pazzeschi cose a 10, 7, 8 euro quindi mi raccomando, salvate le vostre cose preferite e tenetele d'occhio ancora secondo me per un paio di settimane beccate qualcosa in saldo insomma niente, qui ho deciso di aprire un po' la camicia così per fare un po' la sexy mi fate ridere perché alcuni di voi mi scrivono che gli fa ridere che vabbè sono un po' dislessica che i miei voiceover fanno molto ridere può essere che a guardermi così mi sento molto ridicola e quindi mi viene da ridere appunto per tutte le facce buffe che faccio magari che non noto nel montaggio normale invece qui devo proprio vedere cosa sto facendo qui come prima vedete l'abbinamento con la canotta bianca la camicia larga insomma quest'estate mi sto vestendo spessissimo così mi piace davvero tanto questo look che vedo parecchio anche su Instagram insomma si è già capito che mi piace quindi magari smetto di dirlo e basta e niente quindi fatemi sapere se anche a voi piace in questo stile insomma con la camicia così un po' maschile se l'avete utilizzato se l'avete abbinato le cose in questo modo perché insomma sono molto di tendenza quest'estate e io ho apprezzato tanto ma in realtà mi piacciono quei look un po' casual però curati con un misto di elegante una camicia no, non lo so mi piace mi piace tantissimo questo stile qui non lo so metto, tolgo, mi spoglio non lo so cosa sto facendo e poi abbiamo questa in realtà questo era il body nero abbinato appunto al pantaloncino ed un blazer che io stupidamente ho comprato e poi ho restituito perché volevo una taglia più grande e poi la taglia più grande non è tornata mai più complimenti, un applauso a me perché veramente era un blazer stupendo ma non tornerà mai più per quanto riguarda la canotta e il body nero questo scollo così è molto simpatico non mi convince l'apertura che c'è lì proprio sul seno quel pezzo di, non lo so non mi piace molto però in generale le scollature così penso che mi stiano bene perché è buono, non lo so mi dicono che ho delle belle clavicole cose che non ho mai notato non lo so ragazzi ci sono delle belle clavicole nella società si può avere una bella clavicola non lo so complimenti che mi hanno fatto quindi ho detto boh mai notate le clavicole però ok però in generale mi piacciono qui abbiamo sempre il pantaloncino di prima con il body insomma è un look molto asfizioso molto estivo, carino ragazzi fatemi sapere cosa state facendo se siete in vacanza se si dove cosa fate cosa fate a ferragosto se vi state divertendo se vi state riposando se purtroppo state lavorando e andate magari in vacanza un po' più tardi chiacchieriamo un po' perché con questi video non lo so mi sembra di non interagire con voi mi mancate davvero tantissimo a settembre tornerò con una novità quindi non vedo l'ora di sentirvi fatemi sapere tutto iscrivetevi se non siete iscritte e vi mando un bacione ciao ciao ciao